Ciao belli, bentornati sul punto di G, io sono il vostro G e oggi sono qui per, sì, condividere con voi esperienze da incubo col PC. Esperienze da incubo che sono personalmente successe a me e che spero possano aiutarvi a non ripetere gli errori che ho fatto io. Bene sì, la cosa potrebbe sorprendervi, ma per arrivare a un certo livello in cui sei praticamente bravo nel fare una cosa, bravo nello spiegare una cosa, devi sbagliare e nel mio caso ho sbagliato veramente troppo in alcune istanze, quindi spero davvero che questo video possa aiutarvi. Prima di cominciare, questa è una B550 Strix Gaming A, una scheda madre che sarà un upgrade per il mio PC da streaming. Nei prossimi video vedremo come assemblare insieme un PC, quindi mi raccomando, mi piace, iscrizione, accendete la campanella e godetevi il video. Cominciamo. Vi andrò a raccontare tre esperienze da incubo successe con processori, due processori Intel e un processore AMD. Due di queste sono personalmente accadure a me, una di queste è capitata davanti ai miei occhi e spero che nessuno assista mai a qualcosa del genere. Esperienza da incubo numero uno. Era settembre 2015. Il vostro caro G era da un anno che metteva mani nei case, cominciava comunque a toccare cose, aveva il suo bel PC assemblato da appunto meno di un anno a dire il vero da ottobre e decide di fare un upgrade alla sua build. Dall'epoca aveva un H87 come scheda madre, un i7-4790 e 16GB di RAM. 16GB di RAM però dell'IMPS. Quindi l'upgrade era cambiare scheda madre per un MSI Z97 Gaming 7, una scheda madre davvero molto molto bella, anche oggi la sceglierei per l'estetica sinceramente. Cambiare anche i CPU, mettere un i7-4790K perché all'epoca, sapete, 4 MHz in più di frequenza sul processore erano estremamente utili per fare determinate cose. E mettere 32GB di RAM appunto per rendere il lavoro di video editing un pochettino più fluido. Che cosa succede però di divertente? Dal vecchio PC io prendo il processore, quindi l'i7-4790, e lo metto sulla nuova scheda madre per appunto cominciare a mettere cose insieme da solo perché fino a quel momento io non l'avevo mai fatto da solo, avevo comunque un amico di famiglia che mi aiutava ma io personalmente per paura non avevo mai fatto nulla. Quella volta mi feci coraggio e appunto presi il processore, lo misi nella nuova scheda madre, chiusi il retention bracket e il tutto andò tranquillamente. Però dato che era sera, erano se non sbaglio le dieci e mezzo di sera, e io non avevo il tempo di assemblare il PC perché era in effetti il mio primo PC assemblato tutto da me quindi ci avrei messo un casino di tempo decido comunque di rimettere il processore nella sua scheda madre originaria, quindi nell'AC-87. Sapete, gli sfizi che hai praticamente per la prima volta che vuoi fare qualcosa. Avviene però un piccolo problemino, e cioè metto male il processore. Come, in che senso però lo metto male? Voi sapete che praticamente c'è il triangolino dorato che devi allineare col triangolino sul socket? Io lo metto praticamente girato. Quindi se il triangolino era qua, io lo metto praticamente dal verso opposto. Che cosa succede? Non me ne accorgo per la fretta. Vado ad abbassare il retention bracket del socket e faccio molta più forza di quanta se ne dovrebbe imprimere su un meccanismo così semplice. Però si chiude. Quindi dico, ok, perfetto, non ho rotto nulla, funziona tutto benissimo. Metto la pasta termica, metto il dissipatore e il processore sembra funzionare. Fino a che non vado a collegare il PC alla corrente, alla spina di corrente ovviamente. Vado a premere il tasto di accensione e si sente tuttù. E il computer non si accende ovviamente. Tuttu, un'altra volta. Che cavolo può succedere? Tuttu, fa così praticamente. Acceso, spento. Acceso, spento. Acceso, spento. Spento. Non si accende più. Oh mio Dio, cosa è successo? Che cosa è successo? Ho sbagliato a fare qualcosina? Ad ogni modo si erano fatte comunque le 11. Il giorno dopo avrei avuto un impegno importante. Quindi decido di andare a dormire e di portare all'indomani il PC da quell'amico di famiglia che all'epoca aveva un negozio. Gli dico, guarda, è successo questo. Lui apre il PC, toglie il processore dalla scheda madre e dice, guarda, l'hai bruciato. Come l'ho bruciato? Che è successo? Mi prende il processore, me lo fa guardare sotto dove c'erano appunto i punti di contatto dei pin della scheda madre e dice, la vedi questa macchia di bruciato? Eh, perché tu l'hai messa al contrario praticamente. La scheda madre ovviamente è fritta anch'essa perché se era fritta non so, era andato in corto o qualcosina e quindi nulla, all'indomani avrei dovuto ordinare un i7-47-90K il prima possibile perché altrimenti sarei rimasto senza PC. Cosa c'è da imparare da questa esperienza da incubo? Fate attenzione. Anche se è semplicissimo assemblare un PC bisogna sempre fare attenzione ai piccoli particolari. Io per la fretta sbagliai praticamente il posizionamento della CPU. Quindi mi raccomando, fate queste cose quando avete tempo e quando sapete che non c'è nessuna fonte di stress intorno a voi perché potrebbe veramente succedere un casino. Come è successo a me? Esperienza da incubo numero 2 Questa successa con il mio primo processore Ryzen un Ryzen 7 1700 Chi ricorda la prima serie di Ryzen sa che c'erano enormi problemi nel portare le frequenze di questi processori a livelli decenti. Sebbene il mio processore arrivasse tranquillamente a 3.9 GHz con un po' di overclock a me rimase praticamente in gola il fatto che non riuscisse ad arrivare a 4 GHz perché volevo questi 4 GHz perché il mio 4790K arrivava a 4.6 GHz io volevo sto 1700 che arrivasse a 4 GHz sta passando di nuovo la moto come tutti cerco video di overclock di Ryzen su internet e quello fu il mio primo approccio serio all'overclock tramite tensione dal BIOS perché di norma io ve l'ho lasciato tutto in automatico il processore aveva 1.375V sul V-Core appunto e decisi di portarlo a 1.4 1.4V riuscì a raggiungere i 4 GHz perché appunto sapete attenzione maggiore di solito corrisponde anche una frequenza maggiore avevo all'epoca un dissipatore da 240 mm un Corsair H100i se non erro V2 e quindi dissi ok perfetto le temperature sembrano normali fino a che non provai a renderizzare un video durante il rendering finale del video il computer si spegne all'improvviso va bene può darsi boh non lo so cosa è successo riaccendo rivado a fare il rendering del video e il computer si spegne di nuovo apro uno strumento di diagnostica e vedo che la CPU arrivava tranquillamente a 98 gradi 98 gradi porca miseria è tantissimo devo assolutamente rimettere a posto la tensione del V-Core per forza e una volta messa a posto la tensione mi prendo conto che comunque il PC non si accende perché raggiunge delle temperature assurde che cosa era successo? la temperatura troppo alta aveva fatto sciogliere la pasta termica che c'era dal che c'era sul processore e l'aveva fatta colare ai lati del processore quindi io che cosa faccio? guardo nel case vedo questo spettacolo immondo e osceno e dico porca miseria ho distrutto tutto quindi piano piano prendo il waterblock del dissipatore al liquido io poi da questo punto di vista ero abituato con i processori Intel quindi non sapevo che con il socket di AMD bisognava fare il classico giretto così vado a tirare e all'interno della scheda madre il processore non c'era più ma era rimasto attaccato al waterblock del dissipatore al liquido a quel punto io praticamente urlo di terrore io mi spavento tantissimo comincio veramente a essere estremamente nervoso perché la pasta termica che si era un pochettino sciolta che cominciava a colare avevo le mani piene di pasta termica pasta termica sui vestiti sto processore che era rimasto là il socket che in tutto ciò aveva ancora il braccino chiuso quindi io non l'avevo sbloccato ero praticamente nel panico più totale perché avevo paura di aver distrutto il processore quindi corro a prendere dell'alcol cerco piano piano di staccare il processore dal waterblock quindi così mentre vado a fare così pasta termica che cade sulla scheda madre che poi ovviamente è stata ripulita perché un po' di pasta termica non fa nulla a meno che non cada proprio nel socket tenevo la mano piena di pasta termica qui avevo praticamente il processore tenuto con due dita pasta termica che colava pulisco il processore io ho convinto di aver distrutto tutto vado dopo aver pulito il tutto a reinserire il processore e per fortuna il pc è partito questo mi ha insegnato due cose uno non giocare con le tensioni a meno che il tuo sistema di dissipazione non sia adatto due i processori sono più resistenti di quello che sembra quando si tratta di sollecitazioni meccaniche perché se si parla di sollecitazioni elettriche no c'è davvero poco da fare si riesce davvero a distruggere un processore con poco ma di solito abbiamo paura che le componenti se prendono un colpo o se cadono a terra possono veramente rompersi non è così a meno che non colpiscano il suolo o comunque non urtino con parti molto molto sensibili ad esempio i pin ma anche in quel caso si può fare qualcosa come raddrizzarle questo è stato praticamente l'avvenimento credo più traumatico della mia vita da appassionato di tecnologia da quando mi è successo non mi sono più ripreso no non è vero mi sono ripreso però adesso faccio molta più attenzione quando devo staccare un dissipatore dal processore da un processore MD basta semplicemente prendere il waterblock e fare tu 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 dargli qualche giro non giro completo ovviamente un po' di tu 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 e poi si tira adesso l'ultima e più brutta esperienza da incubo che mi è successa di recente con un ragazzo che guarda i miei video a dire il vero che è della mia zona quindi ti saluto perché sai benissimo chi sei e vi dico che davanti ai miei occhi ho visto morire un i7 12700kf e una scheda madre z690 asus strix d4 wifi come è successo questo ragazzo praticamente mi contatta su instagram dicendo sai sono della tua zona ma sto assemblando un pc vuoi venire a darmi una mano perché non so davvero come fare il tutto io dico sì sicuramente non ti preoccupare ci mettiamo d'accordo per un giorno questa cosa è successa lunedì scorso ad essere precisi no due settimane fa ad essere precisi e io vado a casa di questo ragazzo e noto che aveva già praticamente assemblato alcuni componenti quindi la scheda madre era nel case il processore era applicato sulla scheda madre ed era stato applicato anche il water block del dissipatore al liquido partiamo dal presupposto che questo ragazzo voleva assemblare un pc molto molto bello è un pc esteticamente molto carino tutto quanto basato sul marchio Strix perché gli piace molto il marchio Strix approvo tanto perché anche questa scheda madre è una Strix quindi tanta tanta roba comunque arrivo lì lo aiuto a fare un po' di cable management perché si dice cable management no management o management cable management a un certo punto mi rendo conto che il water block del dissipatore al liquido ha i tubi che interferiscono un po' con la copertura del water block perché i dissipatori Asus hanno lo schermetto OLED e hanno questa protezione questo diciamo cappuccio che è quadrato che si deve applicare sul water block appunto ora diciamo che se i tubi devono essere orientati verso le RAM erano orientati verso sotto quindi verso la scheda video e appunto questa copertura non si poteva applicare quindi dico non ti preoccupare adesso tanto te lo svido io non è un problema questa è una cosa solamente estetica ad ogni modo prendo il mio cacciavite di iFixit che è praticamente il kit che uso per fare tutto provo a svitare il processo il water block scusatemi del del dissipatore e vedo che non riesco a fare abbastanza forza ma a quel punto gli chiedo ma come l'hai avvitato tu questo come l'hai avvitato lui mi risponde sì ho avvitato le quattro viti abbattente ora dalle mie parti io sono campano abbattente significa avvitare le viti fino a che non si muovano più di un millimetro quindi stringerle il più possibile a quel punto io mi sono spaventato tanto ho detto ok forse sono un po' strette ma forse non è successo nulla forse non è successo nulla ci tengo a precisare che questo è il primo pc che questo ragazzo abbia mai assemblato quindi è un errore che io giustifico giustifico anche molto di più del mio errore della mia prima esperienza che vi ho raccontato ma ad ogni modo mi da uno dei suoi cacciaviti praticamente quelli così tutti quanti in metallo metto e riesco a svitare facendo comunque una forza diciamo degna di ehi sono forte mettiamola così ad ogni modo rimetto bene il water block del dissipatore liquido finiamo di collegare il tutto e cerchiamo di avviare il pc il pc non si avvia non si avvia assolutamente la scheda madre mi dava errore cpu e il tutto faceva acceso o spento acceso o spento acceso o spento ecco perché vi ho raccontato la mia prima esperienza perché questo è esattamente quello che è successo che cosa faccio a quel punto comincio ovviamente il processo di troubleshooting nella mia mente dico ok questo l'abbiamo messo bene la ram non può essere la ram sta messa bene forse c'è qualche problema con la scheda madre perché è la scheda madre che forse non fa arrivare corrente e a quel punto decido di comunque svitare un attimo il dissipatore ma veramente di un quarto di giro la vite in alto a destra del water block del dissipatore al liquido e a quel punto il computer parte parte tranquillamente senza il minimo problema notavamo semplicemente una differenza di temperatura nel bios quando la vite non c'era e io ovviamente premevo un pochettino con due dita sul water block perché appunto il water block faceva più contatto con il processore e quindi c'era uno scambio termico migliore quindi diciamo il processore abbassava la temperatura di 4-5 gradi ad ogni modo il dissipatore non può essere montato con tre vite il problema era che appena io mettevo la quarta vite e l'avvitavo un po' si spegneva di nuovo rifacciamo di nuovo questo giochetto svita si accende riavvita si spegne a un certo punto il computer non si accende più totalmente morto non dava più nessun segno di vita decidiamo di togliere il water block del dissipatore al liquido andiamo a togliere il processore e notiamo che ci sono dei pin piegati sulla scheda madre in alto a destra proprio sulla vite che forse era stata avvitata per prima sulla vite che era aveva quei problemi praticamente di avvita e svita e a un certo punto mentre sto pulendo il processore noto al di sotto di esso una macchia di bruciato in corrispondenza di quei pin piegati quindi cosa era successo evidentemente la forza di montaggio era troppa i pin si sono piegati e hanno cominciato a non fare contatto come si deve con la parte inferiore del processore dopo delle sollecitazioni che sono quelle normalissime quelle dell'accensione o comunque dello spegnimento evidentemente qualcosa è andato in cortocircuito e ha fatto boom il processore e la scheda madre sono inutilizzabili al momento quindi nulla ho visto morire praticamente quasi 800 euro di attrezzatura sotto i miei occhi senza che io potessi fare nulla e non è uno di quei casi in cui avresti potuto salvarli no perché il socket intel l'lga 1700 ha all'interno tanti di quei pin che è estremamente difficile difficile raddrizzarli a meno che non abbiate una lente di ingrandimento così a meno che non abbiate delle pinzette molto piccole abbiate delle ore a disposizione per fare sto procedimento e io sinceramente uno non le avevo due non mi sentivo abbastanza coraggioso da fare una cosa del genere perché se raddrizzate un pin se ne piegano altri tre a fianco raddrizzate quei tre se ne piegano altro da un'altra parte quindi non mi sembrava il caso di intervenire manualmente sulla situazione oltretutto il processore sotto era praticamente bruciato c'era una bella macchia sapete di quel marroncino ben cotto quello che ci piace tanto morale della favola quando fate una cosa del genere per la prima volta fate attenzione se avete paura e non sapete cosa fare guardate tanti video su youtube e se ancora avete paura e lo dovete fare per forza voi da soli non metteteci forza stiamo parlando di componenti elettroniche piccole molto delicate che non necessitano di forza non stiamo parlando di un camion che ha appunto dei bulloni così sulle ruote stiamo parlando di viti molto molto piccole che riescono a imprimere molta forza su componenti estremamente delicate credo di poter chiudere il video qui dalla registrazione vedo che sono oltre 20 minuti che sto parlando quindi nulla io vi ho raccontato le mie esperienze da incubo ma quali sono le vostre esperienze da incubo relative al processore perché nei prossimi video se vi piace questo format innanzitutto fatemelo sapere e nei prossimi video potrei raccontarvi di qualche esperienza da incubo relativa a magari qualche altro componente perché ne ho qualcun'altra che potrebbe in effetti piacervi e che potrebbe appassionarvi fatemi sapere la vostra fatemi sapere le vostre esperienze da incubo e io vi saluto ci vediamo un prossimo video sempre qui sul punto di G sempre qui col vostro G ciao ciao belli ciao